La mia storia inizia quando ero veramente piccolo, perché avevo sette anni, mio papà era seduto ad un bar nella piazza del paese, offrì una granita di limone a degli ospiti tedeschi che erano arrivati al tavolo accanto, dopodiché gli disse che se nel pomeriggio volevano andare con lui in area archeologica gli avrebbe fatto fare un giro. Mi seguì questa scena, mi innamorai di quella conduzione, di quell'ospitalità. I ragazzi volevano un portico dove aprire un sacco appello per la sera e mio papà li portò alla nostra casa di campagna, anche il fatto che l'indomani mio papà portò delle brioche calde, del pane e delle marmellate. Questa conduzione spontanea di mio padre, io probabilmente l'ho conservata in un angolino senza manco saperla e dopo anni l'ho tirata fuori e oggi è il mio lavoro. La mia attività a Val di Gamma inizia a Sant'Angelo Muxaro, che è un piccolo borgo di 1200 abitanti nell'endoterra aggrigentino. Oggi interagisco con molti dei miei borghi interni, quindi l'area dei siccani. Sfoggio anche nel Nesseno perché grazie ad alcuni amici stiamo mettendo a regime un po' di interessanti esperienze. Mi occupo di turismo esperienziale. Io ho iniziato con il turismo degli incontri. Noi praticamente riusciamo a portare gente nell'endoterra sconosciuta aggrigentino e quando arrivano i primi ospiti chiediamo se fosse possibile avere indietro le foto della giornata. Io mi aspettavo le foto dell'area archeologica, della riserva naturale, delle bellezze architettoniche e invece mi arrivano tutta una serie di foto che sono panni stesi al sole in giro per i vicoli, il pane consato al forno, i vecchietti che giocano a carte, scene di ordinaria sicilianità. Proporre una Sicilia della natura dell'archeologia saremmo stati per forza secondi a qualcuno e lì capì che l'attenzione non poteva essere il dove ma il con chi. Ci siamo accorti nel tempo che il focus di questo viaggio nella Sicilia interna non era tanto il luogo ma era l'incontro. Incontrare chi? La gente del post che non per forza doveva essere un personaggio, poteva essere anche la normalissima persona di strada che stesse giocando a carte o che stava facendo la spesa o che girando l'angolo poteva scambiare perché un ex emigrato due parole con il nostro ospite tedesco. Per la prima volta chi viveva nei borghi si è sentito protagonista di scene normalissime. La gente si emoziona perché si vede offerto un pezzo di pane o addirittura di più se l'ho preparato assieme. Quindi incontrare siccani che hanno diverse declinazioni perché c'è l'incontro con i pastori, incontro con la fornaia, incontro con la gente del cortile provando a fare da mediatore di questo incontro. Cosa che faccio tuttora è che oggi stiamo sempre più perfezionando e cercando di trasferire il know-how ai giovani perché questa è la svolta per le aree interne. Io ho finito i miei studi alle superiori, mi sono iscritto in scienze bancarie assicurative, mi sono laureato in scienze bancarie assicurative, io supero un colloquio alla City a Londra, da lì a poco sarei entrato per uno stage che poi si sarebbe probabilmente tradotto in un'assunzione in quello che all'epoca era il Banco di Sicilia alla City. Io alla seconda chiamata non andai mai più per paura di non poter tornare in Sicilia. Tornai perché nel frattempo avevo scoperto che nei cataloghi in Inghilterra la mia terra era presentata come una cosa troppo standard per essere vero. La Sicilia dell'Indoterra che significa anche solo 20-30 km dentro rispetto alla costa nessuno mai l'aveva raccontata. Allora torno da Londra con questa missione che era quella di provare a mettere su qualcosa che mi mettesse nelle condizioni di raccontare questa Sicilia che io avevo vista a Londra. Tutto quello che oggi faccio è veramente nato a Londra. Oggi questo è diventato il mio lavoro che faccio con grande passione e spesso ripeto ai miei amici che faccio un lavoro che per me non è un lavoro e per quello non mi stanco veramente mai. Nel territorio che cosa è successo nel frattempo? Io penso che il nostro messaggio ha creato sicuramente delle ricadute dirette per chi lavora giornalmente con noi. Nel frattempo il territorio ha creduto in questa formula. Sono nati agriturismi. Quello che succederà almeno per quanto mi riguarda nel prossimo futuro è provare sempre più a condurre i miei ospiti in esperienze non costruite ma che sono improvvisate ma che ovviamente alle spalle hanno una conoscenza dei personaggi e del territorio che ti dà la certificazione e quindi la possibilità di portare avanti queste improvvisazioni. Per me l'Italia che cambia potrebbe, dovrebbe essere il dare più voce ai territori marginali perché nei territori ai margini oggi esiste l'essenza di quell'Italia che probabilmente ancora non abbiamo saputo raccontare che potrebbe essere la svolta davvero da tutti i punti di vista culturale, economica e sociale. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi.